E buongiorno, spero mi si veda perché non c'è una gran luce nel bagno. È lunedì 24 ottobre, sono di corsa, sono alle 3 del pomeriggio perché sto andando a Bologna a fare cosa? Una cosa che vi avevo già preannunciato in un altro video, ovvero tatuaggio e piercing. Stay tuned! Arrivata, guardate quanto è bello! Guardate il dipinto di Kat Von D, purtroppo non rende con sa telecamera, è bellissimo. Mi sta facendo il disegno. Oh che bello, non l'avevo mica vista. Oh che bello, non l'avevo mica, non l'avevo mica, non l'avevo mica, non l'avevo mica. Oh che bello, non l'avevo mica, non l'avevo mica. Non l'avevo mica, 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 non l'avevo mica. Finito, 3 minuti, ci abbiamo messo 4. Bellissimo, lo lascio sfumato. Lo copre, grazie. Si passa al piercing. Scusa, faccio vedere la merce, faccio il vlog. Vuoi comparire? Saluta? Di come si chiama il negozio? Apocalypse Tattoo. E dove si trova? Via Massarenti. A Bologna. A Bologna. Lui è Pietro. Sì, l'esco. C'è l'esco. Sì, l'esco. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Oh, bello. Non lo toccare con le mani. Scusa. È bellissimo. Scusa, posso, scusami. Posso toccarlo con questo? Lo faccio così. Cazzo, allora. Eh? Vabbè, lo devo... Poi, quando metti quello più corto... Ciao. Ok, sono le 19.30 e sono appena tornata a casa. Sono stanca, morta. Comunque sono partita alle 3. E ho anche fame. Allora, sul polso non potevo dirlo, ovviamente, mentre faceva... Ci ha messo 3 minuti d'orologio, 3. Ha fatto un male che non avete idea. Cioè, non me l'aspettavo. Quando ho fatto la fata di 30 cm sulla spalla, non mi ha fatto così male. E mi ha fatto male. La fata è stata l'unica a farmi davvero molto male. E' un po' quello sul piede, ma questo adesso è ancora fasciato, quindi vi metterò una foto alla fine quando lo pulisco. Mi ha fatto veramente, ma veramente un male che pensavo di fermarlo. Meno male che ci ha messo 3 minuti. Il septum, io non so adesso se lo vedete o meno. Boh, non lo so perché non mi vedo. E' bellissimo. Pensavo che non stesse bene con il mio tipo di naso, invece sta da dire adesso un po' storto perché... Ha detto, cerca di non... l'ho appena toccato, di non toccarlo con le mani. Domani lo giro un po' e lo metto a posto. Comunque è bellissimo. Pensavo, non ero sicura di vedermici bene e invece mi piace veramente un casino. Poi vi farò un video aggiornamento su quali tatuaggi ho, i significati piercing, eccetera. Ci vediamo in un altro video. E voi se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, fatemi sapere che tatuaggi e piercing avete. E spolliciate e basta. Ciao!